Continuiamo con il nostro ritiro in questa seconda domenica di Pasqua la domenica della misericordia parliamo di misericordia parliamo della pecora smarrita questa parabola che si trova nel capitolo 15 del Vangelo di Luca insieme con quella della moneta perduta e anche quella del figlio improdigo oppure del padre misericordioso vorrei incominciare questa seconda parte con un testo del profeta Geremia che abbiamo letto proprio durante la Quaresima concretamente è un brano della prima lettura della quinta domenica di Quaresima dice così Geremia 31, 33, 34 Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni oracolo del Signore porrò la mia legge dentro di loro la scriverò sul loro cuore allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande oracolo del Signore poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato bene, forse così una prima lettura potrete dirmi ma cosa c'entra con la pecora smarrita questa lettura di Geremia c'entra perché vorrei come prima parte di questa seconda parte del nostro ritiro invitarmi e invitarvi ad essere anche noi pecora la nuova alleanza che raggiunge la sua plenitudine nella persona di Gesù non è un assieme di comandamenti che si trasmettono attraverso l'insegnamento dunque precetti teorici semplicemente è una legge che sguarda dal cuore radicata in un rapporto personale nella relazione con Dio che ci istruisce e ci comunica la sua volontà ovviamente questo non suppone che non devano esserci delle mediazioni mediazioni che ad esempio troviamo nella Chiesa anzi soltanto nella comunità soltanto nella Chiesa troviamo le condizioni e le possibilità per stabilire un giusto rapporto con Dio è vero che la grazia può agire come vuole fuori dalla Chiesa e sappiamo quella bellissima frase di Teresa de Lisier prima di morire poco prima di morire quando non poteva ricevere i sacramenti e dice vabbè io vorrei comunicarmi vorrei confessarmi in pace vorrei poter leggere l'ufficio divino però non importa se la volontà di Dio è che io non possa ricevere queste cose adesso tutto è grazia quindi tutto è grazia non chiudiamo le porte allo spirito ma il modo normale nel quale Dio si comunica con noi è attraverso le mediazioni della Chiesa e nella Chiesa infatti la Chiesa deve custodire il rapporto comunitario e personale cioè di ciascuno dei fedeli con Dio deve farlo accrescere e deve anche attraverso il discernimento nel quale insiste tanto Papa Francesco verificarne l'autenticità tuttavia allora adesso vorrei sottolineare il vessogno di personalizzare di interiorizzare insomma il progetto di vita spirituale da Dio voluto comunque per noi un processo che incomincia con il nostro Battessimo tenuto conto questo principio generale possiamo applicarlo anche alla questione della misericordia che è il centro della nostra parabola come abbiamo spiegato potremmo credere sì per sentito dire che Dio è come l'uomo che lascia tutto e intraprende una ricerca instancabile per ritrovare la pecora smarrita però questa notizia non sarà rilevante per noi finché non diventi qualcosa che ci tocca in modo personale solo l'esperienza ci permette di capire veramente che Dio è misericordioso perché lo è stato nei nostri confronti e comprenderemo anche cosa significa vi ricordate il testo di Teresa col quale abbiamo incominciato il nostro ritiro ve lo ricordo adesso se mi date un attimo per cercarlo qui si trova nel libro della vita nel capitolo 19 nel paragrafo quinto la madre Teresa di Gesù parla proprio di questo e parla non per sentito dire come dicevo prima non perché l'ha imparato nella catechesi non perché ha sentito il ritiro ma perché ne ha fatto esperienza personale e dobbiamo credere a questa esperienza dei santi perché a volte diciamo no ma i santi sono stati santi buoni non hanno fatto mai niente non pensate che per Teresa i suoi santi preferiti erano oltre San Giuseppe assolutamente Agostino San Paolo e la Maddalena che in realtà l'uno l'altro si può dire sono tre pecore smarrite tre convertiti se volete usiamo questa parola tre che erano persi e si sono sentiti cercati da Gesù Dio ha lasciato il gregge per andare a ritrovare questi tre che erano perduti e per lei sono il modello quindi vuol dire che c'è un'esperienza reale non diciamo che queste sono cose finte perché dobbiamo prendere sul serio quello che ci dicono i santi bene come dicevo prima quindi sono i mistici a mostrarci la via dell'esperienza allora voi potrete dirmi padre adesso si mette a parlare di mistica ma no questo è troppo questo ci supera noi siamo poveri fedeli anche io sono un povero fedele ma non ho paura a parlare di mistica perché non devo pensare che la mistica sia un assieme di fenomeni straordinari a cui noi non siamo chiamati invece mistico è semplicemente la persona che ha avuto esperienza per cui può confessare le verità di fede non soltanto perché le ha sentite ma perché le ha conosciute non è un altro che me le ha fatto conoscere sono io che le ho conosciute e questo di cui parlava il testo di Geremia e perciò l'ho preso l'ho usato all'inizio di questa seconda parte del nostro ritiro cioè si tratta di leggere la presenza di Dio misericordioso nella nostra storia personale credo di non avere scoperto l'acqua calda se vi dico questa cosa scusatemi l'espressione colloquiale è ben facile fare questo percorso guardare nella nostra storia e dire veramente sì anch'io sono stato pecora smarita e anch'io sono stato ritrovato o ritrovata i mistici allora parleranno di misericordia e di Dio misericordioso proprio perché l'hanno sperimentato nella propria vita e quando noi parliamo di Dio misericordioso non perché tocca non perché l'abbiamo sentito non perché è di moda ma perché la verità del Vangelo che noi abbiamo vissuto nella propria storia personale allora possiamo dire senza paura senza vergognarci siamo in qualche modo anche noi mistici almeno questo è il mio parere vediamo ad esempio il caso di Giovanni della Croce lui nelle prime strofe del suo cantico spirituale come saprete molto probabilmente ci racconta la storia di un'anima possiamo leggere il poema che si sente ferita e persa perché abbandonata dice lei l'anima dice signore tu mi hai ferito adesso tu mi hai abbandonato lei lo pensa così e così lo dice nei versi del poema di Giovanni l'amato Dio l'ha lasciata e si sente proprio smarrita per questo invece nella strofa 13 scopriremo la verità Giovanni della Croce ci farà capire come poeta mistico lui dichiara Dio non è mai mancato l'amato c'era sempre anche se la persona non percepiva la sua presenza come la pecora della nostra parabola l'amata del cantico spirituale farà esperienza della misericordia divina rendendosi conto che visto che da sola non è capace di ritrovare il pastore sarà lui a ricercarla per così ricostruire la comunione piena come ha detto lo stesso Giovanni della Croce nelle parole di luce e amore chi si potrà liberare dalle indegnità se tu non lo inalzi a te in purezza di amore Dio mio come si inalzerà a te l'uomo generato è cresciuto nella miseria se non lo inalzi tu Signore con la mano con cui lo creasti Dio pastore e sposo è anche per Giovanni della Croce il cervo ferito in uno scambio di ruoli nei quali è l'amato adesso chi si presenta come ferito dell'amore dell'amata riproducendo in qualche modo il suo lamento il lamento dell'amata nelle prime strofe a partire dalla strofa 13 in realtà è Dio l'uomo che abbandona i gregi è Dio a ricercare perché per il suo grande amore nei nostri confronti per la sua misericordia della quale Giovanni ha fatto esperienza come detto da Giovanni della Croce in Fiamma Viva di Amore in primo luogo c'è da notare che se l'anima cerca Dio molto più il suo amato cerca lei la citazione si trova nella dichiarazione della terza estrofa della Fiamma Viva di Amore e mi raccomando leggete tutto il testo Fiamma Viva di Amore terza estrofa paragrafo 28 vale veramente la pena adesso non possiamo farlo è un po' lungo e non è questione di leggere tutto però voi potete farlo dopo a casa tranquilli è veramente molto profitto si può leggere anche nel cantico B la strofa 22 nel commento il paragrafo 6 allora in qualche modo insomma le prime strofe del cantico riproducono la storia della pecora è smarrita però tradotta da Giovanni della Croce secondo la sua esperienza personale proprio perché lui ha sperimentato l'amore e la misericordia divina ha potuto comprendere il senso profondo della parola di Gesù e a questo riguardo vorrei raccontarvi un aneddoto reale della vita di San Giovanni della Croce lui si trova in chiesa penso a Granada e sta lì confessando si rende conto che una ragazza entra in chiesa guarda i confessionali guarda il suo si ferma un po' sembra che prega o fa finta di pregare e dopo scappa senza confessarsi è un po' agitata questo si ripete non so due o tre giorni non ricordo adesso tutti i dettagli a un certo punto Giovanni si stanca dice c'è qualcosa di strano in questa situazione e quando la ragazza appena si alza per andarsene ancora una volta in più via lui la ferma aspetti venga qua ma cosa viene a fare lei entra si ferma meno di un minuto a pregare guarda tutti i confessionali perfino guarda me però non si decide e io penso che lei vuole confessare però ha paura ah padre mi ha letto l'anima proprio mi ha letto l'anima allora venga venga e si confessi tranquillamente lei è ancora agitata le dice padre padre Giovanni senta io ho sentito che lei è un santo e tante amiche e amici mi hanno consigliato di confessarmi da lei però io ho paura perché se lei è un santo si scandalizzerà delle mie debolezze allora Giovanni della croce si inizia a ridere dice ma no dice guarda l'hanno ingannata perché le han detto che io sono santo e io non sono nessun santo questa è la prima cosa però se santo fosse santo fossi non mi scandalizzerei mai perché più santi siamo più ci rendiamo conto di quanta misericordia Dio ha usato nei nostri confronti e potremmo aggiungere noi nel contesto del nostro ritiro avrebbe potuto dire tanto più siamo santi tanto più ci rendiamo conto di quante volte abbiamo compiuto il ruolo della pecora smarrita e lui quello dell'uomo che ci ha sollevato e ci ha messo sulle sue spalle per riportarci al greggio e quindi la ragazza si confessa con lui va via contentissima perché come l'uomo che aveva fatto esperienza vera della misericordia di Dio Giovanni da Croce era un bravissimo confessore e non uno che accusava e non uno che faceva sentirsi male le persone in tanti di noi possiamo dire e mi includono abbiamo avuto una brutta esperienza nella confessione grazie a Dio questo ogni volta si ripete di meno ma dobbiamo dire che in questo senso bisogna pregare per questi sacerdoti che spaventano i peccatori perché dovrebbero fare tutto il contrario il Papa Francesco si è esaurito di dircelo una e mille volte ogni volta che parla della confessione bene andiamo adesso ad un'altra mistica Teresa di Gesù Bambino Teresa di Lisie il suo modo di vivere la misericordia è incentrato nell'amore lei parla di amore parla di misericordia come parole che si possono scambiare non troviamo in lei alcun riferimento al peccato questo chiama anche l'attenzione nel caso di Giovanni della Croce le poche volte che lui parla di peccato lo stesso succede con Teresa di Lisie bene lei non dice neanche dovete inchinarvi di fronte a Dio che è misericordia però dovete farlo perché se non lo fate vedrete cosa vi succederà no lei fa soprattutto riferimenti e si ferma soprattutto nel parlare della grandezza dell'amore di Dio e di questa grandezza non come una potenza da ammirare ma come una forza capace di ricostruire una vita e di edificarla è bello che lei dica edificare e ricostruire usi questi termini perché a volte noi lo sappiamo nella esperienza della vita anche sembra che sia più semplice ricostruire che edificare infatti alcuni palazzi purtroppo sono così rovinati che decidono di buttarli giù per ricostruire uno nuovo non c'è possibilità di ristrutturarlo perché addirittura è abbastanza più costoso per Teresa Dio manifesta di avere un cuore tenero di fronte alla povertà umana e questo va oltre a una semplice volontà di purificare l'uomo dal peccato Dio vuole cercare l'uomo perso per condividere con lui la vita e salvarla impregnandola di divinità cioè non è soltanto pulire è ridare vita è ridonare una vita che è quella che ci appartiene davvero figli nel figlio figli di Dio nel figlio unico che è Cristo vi leggo una poesia un po' lunga però vale la pena è la poesia che lei compone al sacro cuore di Gesù la compone per la sua sorella Maria che aveva come cognome religioso proprio questo Maria del sacro cuore di Gesù ma prima avverte senti Maria che io non vedo il cuore di Gesù come lo vedono tante persone io ho una visione diversa quindi forse ti deluderà il mio poema vediamo cosa ci dice Teresa ho bisogno di trovare un cuore che arde in fiamme di tenerezza per prestarmi il suo rapporto il suo supporto senza riserve amarmi come sono piccola e debole che ami tutto in me e che non mi abbandoni né di notte né di giorno non sono riuscita a trovare nessuna creatura capaci di amarmi sempre e di non morire mai ho bisogno di un Dio che come me si vesta della mia povera natura umana che diventi mio fratello e che possa soffrire cioè nella sua povertà Teresa Pecoras Marita dice ho bisogno di uno che mi carichi sulle sue spalle e questo non significa solo mi porta no no assume la mia vita assume la mia carne e così mi rida una vita vera che non si spegne con la morte canta così nella strofa seguente mi hai sentito mio amato sposo per affascinare il mio cuore ti sei ripresentato nel mondo proprio come me mortale e hai versato il tuo sangue o mistero supremo e se non fosse abbastanza continui a vivere nell'altare per me e se lo splendore non mi permette di vedere dal tutto il tuo viso ne posso ascoltare la tua voce tutta dolcezza posso quanto sono felice vivere della tua grazia e posso riposare nel tuo sacro cuore mio amato cuore di Gesù tesoro di tenerezza sei la mia felicità la mia unica speranza tu mi hai incantato dalla mia tenera giovinezza resta con me fino al mio arrivo resta con me fino all'ultimo pomeriggio della mia giornata qui ti do mio Signore tutta la mia vita quindi Gesù che diventa il pastore che solleva in questo senso c'è un detto nelle parole di luce e amore di Giovanni della Croce che colpisce molto lui dice tu Signore sollevi i peccatori sollevi quelli che ti offendono invece io non sono capace di accogliere di perdonare di riconciliarmi con quelli che mi hanno offesso vi ricordate della parabola del servo ingrato anche abbiamo meditato su di essa stato padre Albert a farci la meditazione nei nostri ritiri la vita di Teresa è come la parabola del servo impietoso però alla rovescia lei ha capito che se Gesù racconta quella parabola non è per spaventarsi ma per dire voi in questo caso Gesù di solito dice voi dovete fare questo no in questo caso dice voi dovete fare proprio il contrario comprendere fare esperienza di quanto vi è stato perdonato e così poter risolevare voi anche gli altri e perdonare gli altri che se vi hanno offesso comunque la loro offessa non può arrivare neanche alla centessima parte di quello che voi mi avete offesso e io non ci ho tenuto conto vi ho perdonato la stessa idea in Giovanni della Croce e in Teresa di Gesù c'è anche un testo molto bello e poco conosciuto a mio avviso che si trova in una delle pie ricreazioni che Teresa faceva per le sue consorelle molto probabilmente alcuni di voi almeno saprete che nel Carmelo soprattutto nel Carmelo femminile ma anche nel Carmelo maschile c'è questa tradizione nelle grandi feste liturgiche soprattutto ma anche per celebrare l'onomastico il compleanno del superiore o la festa di un santo del Carmelo con Santa Teresa c'era l'abitudine di rappresentare durante la ricreazione il momento nel quale dopo i pasti i religiosi e le monache ci raduniamo per scambiare per parlare un po' delle nostre cose quindi si sostituiva questo incontro per un'opera teatrale che sempre però doveva essere devota allora Teresa che era una grande autrice teatrale e anche una grande attrice si riservava sempre il ruolo più importante dell'opera perché lo faceva era brava a fare queste cose lo dicono non lo dico io lo dicono le sue consorelle del monastero di Lissia nei processi allora dicevo Teresa compone una per l'onomastico della sua sorella che in quel momento Agnese è priora chiamata la fuga in Egitto la fuga in Egitto è ispirata in un racconto apocrifo sapete questi racconti che parlano soprattutto dell'infanzia di Gesù ma non solo però la chiesa non li ha riconosciuti come rivelati cioè sono meditazioni devote pie alcuni belli come questa storia altri un po' peggio un po' peggiore non sono tanto accettabili però sempre contengono un po' di devozione e rispondono a questo desiderio di conoscere meglio i fatti della vita dell'amato della vita di quello in cui crediamo cioè di Gesù allora la fuga in Egitto come vi dico è ispirata in un racconto di un Vangelo apocrifo che però era stata ricomposta da un padre molto famoso nei tempi di Teresa che si chiamava il padre Favre lui aveva fatto dei libri con questi racconti ma un po' rifatti e soprattutto cercando di togliere tutti gli elementi eterodossi perché diventassero racconti ortodossi pii devoti che aiutavano ai fedeli anche perché come ricordate la Bibbia non si poteva leggere tra i cattolici era un po' stretta era ristretta praticamente sacerdoti neanche le monache per esempio in tempo di Santa Teresa quindi molto difficile accedere e questo era un modo di familiarizzarsi con alcuni eventi della scrittura e anche con questi racconti apocrifi comunque vado al dunque perché se no mi perdo in delle spiegazioni la cosa interessante è che a un certo punto in questa ricreazione che è ricchissima tra l'altro la Sacra Famiglia entra in una grotta che è rifugio di un gruppo di ladri il figlio di uno di questi ladri è malato e lebroso e la mamma si chiama Susana si rende conto che questa famiglia che ha chiesto rifugio nel suo esilio in Egitto non è una famiglia normale c'è qualcosa di sopranaturale c'è qualcosa di divino in questi tre personaggi lei è molto intelligente anche se specifica Teresa non è credente nel resoconto di padre Faver la madre scusate la Madonna chiede alla mamma a Susana un posto per poter lavare Gesù bambino e lei le dice sì questa vasca nella grotta c'è scavata un modo di vasca dove lo lavo la Madonna lava il bambino e lei dice no lasci lasci l'acqua io dopo ci penso a raccogliere un po' a pulire lei va da dormire tranquilla è stanca del viaggio va bene e allora segretamente Susana mette il suo figlio nel bagno dove c'è stato Gesù in quella paschetta e al contatto con l'acqua nella quale Gesù è stato bagnato il bambino guarisce Teresa cambierà questo episodio e allora la Madonna in effetto chiede di lavare il bambino di bagnarlo però la madre le dice no non farlo lì io le preparo un altro posto perché essendo mio bambino lebroso non vorrei che il suo figlio si contagiasse della lebra allora Maria dice no faremo così prima io laverò Gesù bambino nella tua baschetta e dopo ci sarai te a bagnare il tuo figlio non ti preoccupare nella stessa acqua e vedrai e capita il miracolo tra l'altro questo figlio di ladro ha il nome di Dimas è il buon ladrone del Vangelo e infatti la madre Susana dice eh ma vedrà adesso che il mio figlio sta bene il papà che un ladro un bandito lo porterà qua e là li farà fare peccati e cose che andranno contro il Dio che li ha salvati e dice Maria non ti preoccupare perché mio figlio ha salvato da una malattia fisica il tuo attraverso l'acqua ma lui è capace di versare e sarà capace di versare il suo sangue per salvarlo di una malattia ancora più grave che quella del peccato quindi un episodio che ci parla anche di misericordia la misericordia che Teresa aveva sperimentato in sé stessa come l'ha sperimentata Teresa perché tante volte si dice beh Teresa è un'alma pura lei stessa dice di non avere peccato peccato mai come allora come può sperimentare la misericordia e a lei non piacevano i sermoni che sentiva su queste parabole e in particolare anche sulla parabola del figlio del prodigo perché i predicatori dicevano solo i grandi peccatori potranno conoscere e sperimentare la misericordia di Dio perché quelli che non siamo peccatori non lo saperemo mai eccetera lei si arrabbiava diceva no questo no non è così io non sono il figlio del prodigo dice Teresa perché sono stata sempre accanto a Gesù ma nemmeno sono il figlio maggiore che è rimasta a casa senza capire la bellezza del dono ricevuto perché questo è il problema del dono ricevuto del figlio maggiore che non ha capito il dono ricevuto che non ha capito le parole del padre tutto quanto è mio è tuo cioè vuol dire tu avresti potuto prendere ammazzare il bitello grasso e farlo mangiare ai tuoi amici e non sarebbe successo niente però tu hai paura di me perché non hai conosciuto la mia natura vabbè però questo perché vediate come Teresa comprendeva la scrittura anche se non aveva studiato neanche al teresiano bene io dice Teresa ho imparato da Gesù ad essere come lui appartengo al gruppo dei bambini che non sono mai usciti di casa scusate e ne sono felice come il padre del figlio prodigo mi ha detto tutto ciò che è mio è tuo e per scusate come il padre del figlio maggiore anche a me ha detto tutto ciò che è mio è tuo le tue parole Gesù sono dunque mie e posso usarle per attirare su le anime unite alle mie i favori unite alla mia i favori del padre celeste cioè posso usare le tue parole posso usare tutto quanto tu hai no? allora come rilegge lei la parabola è molto bello molto interessante leggere questo testo supponiamo che il figlio di un medico molto competente trovi una pietra sul suo cammino che lo fa cadere e che nella caduta ci faccia qualche male il padre viene subito lo solleva con amore gli cura le ferite eccetera eccetera allora il figlio ha un'enorme gratitudine nei suoi confronti vado un pochino in fretta non leggo esattamente il testo per non allargarmi troppo però faccio un'altra ipotesi dice Tires supponiamo che il padre sapendo che c'è una pietra nella strada si precipita davanti al figlio e toglie questa pietra anche se nessuno lo veda il figlio non è caduto e quindi deve essere il figlio capace di comprendere che non si è ferito perché in modo precedente il padre l'ha guarito quindi ci sono delle anime che fanno questa esperienza e cioè io mi sento perso io mi sento smarrito il signore è venuto a incontrarmi mi ha guarito però ce ne saranno invece altre anime come lei dice la mia che dobbiamo riconoscere che Dio è stato anche misericordioso nei nostri confronti perché ci ha allontanato del peccato forse perché sapeva che essendo deboli non è che avremmo inciampato nella pietra e ci avremmo rotto non so un braccio una gamba ma che ci saremmo rovinati o ci saremmo cascati sul pavimento rotto la testa e via perché siamo più deboli e quindi a noi che siamo più deboli il signore dice no io uso la mia misericordia preveniente questo è il termine che usa Teresa spero di aver tradotto bene in italiano lei dice sono io sono quella figlia oggetto dell'amore lungimirante di un padre che non ha non ha mandato la sua parola con le maiuscole e cioè Gesù per salvare i giusti ma i peccatori facendo un ecco della frase che appare in questa nostra parabola non ha aspettato che io lo amassi molto come Santa Maria Maddalena ma lui ha voluto che sapesse fino a che punto sapessi fino a che punto mi ha amato con un amore di ammirevole prevenzione tanto che ora lo amo con follia lo stesso amore la stessa misericordia concludo ormai con un altro invito avevo detto nella prima parte e adesso molto brevemente la seconda parte di questa seconda di questo secondo incontro diventare pastore diventare uomo che si mette a ricercare a cercare la 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 pecora per ritrovarla dunque anche noi come Teresa di Lisie come Giovanni della Croce come la madre Teresa di Gesù alla quale abbiamo sentito all'inizio del ritiro siamo invitati a fare esperienza della misericordia divina amore che diventa tensione di ricerca in lui per ricostruire e rinforzare i legami di comunione con noi tuttavia non possiamo dimenticare che la parabola è rivolta da Gesù ai capi del popolo che li giudicavano per essere vicino ai pecatori e ai pubblicani giudicavano Gesù a loro spiega come abbiamo visto che lui non fa altro che compiere il piano di Dio il quale si assomiglia a un uomo che abbandona tutto il grece per trovare un'unica pecora smarrita una pecora che per lui ha un grande valore anche perché la sorte di tutte è legata a quella dell'animale perso raccontando questa parabola però Gesù non vuole solo istruire o informare i capi del popolo circa la sua missione missione di Gesù o la natura di Dio vuole proprio toccare il loro cuore e farli capire che anche loro hanno bisogno della misericordia di Dio e quindi devono cambiare il suo sguardo sugli altri non giudicarli con durezza ma con tenerezza giudicarli con compassione perché la misericordia è l'unico modo di attirarli verso Dio di recuperarli di ridarli la vita la vita vera la vita eterna allora anche noi siamo chiamati a diventare l'uomo della parabola il pastore se vogliamo portatori di misericordia che accolgono e non disprezzano i deboli anche se le loro debolezze siano per noi motivo di fastidio o pesantezza vi ricordate della pecora come forse era pozzolante questa è l'assenza di una vera conversione per noi e finisco con una citazione adesso leggendo il testo esatto di Giovanni della Croce perché la sua esperienza diventa per noi anche richiamo diventa richiamo perché anche noi siamo capaci di riprodurre il gesto del pastore che rialza sulle spalle la pecora smarrita e provare il dolore quando non siamo capaci di farlo di nuovo tu signore torni a rialzare con gioia e amore colui che ti offende e io non torno a rialzare e onorare colui che mi irrita grazie del vostro ascolto sono contento di aver condiviso con voi questa giornata e vi aspettiamo il mese prossimo anche per la nostra giornata di ritiro al tedesiano e vi auguro una bella domenica della misericordia e che il signore vi benedica a tutti arrivederci